Cucu amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Riparte la nuova rubrica del giovedì con la presentazione delle partite del weekend, l'abbiamo fatta per la seconda giornata, poi la terza è stata l'infrasettimanale, la quarta arrivava proprio insieme alle partite, quindi ho saltato quel paio di appuntamenti, ritroviamoci. Quindi con la quinta c'è stata la pausa in mezzo, quindi eravamo partiti forti, le prime avvisaglie, le prime sensazioni di un campionato molto equilibrato perché comunque le capoliste hanno otto punti in quattro partite, quindi c'è un equilibrio assolutamente incredibile nel torneo di Serie B. Ecco la pausa, la pausa lunga e vediamo le squadre come avranno saputo lavorare durante questi giorni senza gare ufficiali. Ricordiamoci la pausa per esempio come fu decisiva anni fa nel campionato di Serie B, come Lecce di Baroni per esempio lo affrontava sempre arrivando in grande forma prima della pausa e poi faticando sempre molto quando il gioco ricominciava. È difficile, è un nuovo compito anche questo particolare per quanto riguarda gli allenatori. Come sempre, come l'altra volta, vediamo le partite, vediamo gli arbitri e come dicevamo anche nell'occasione della prima puntata di questa rubrica, la disinanzione arbitrale ci fa capire anche quanto la federazione, la Lega, la CAN, la commissione arbitri pensa di queste sfide che abbiamo da andare a vedere. Venerdì si comincia con Cesena-Modena. Come faceva Gianni Brera, il valore della partita lo diamo con la posizione della squadra in classifica. Cesena-Ottava-Modeno-14esimo, fa 22, quindi una gara interessante. Arbitro a Monaldi, è un derby comunque regionale, sarà una sfida assolutamente interessante. Il Modena è partito un po' a fatica, il Cesena è sicuramente una delle grandi sorprese, l'ho vista molto bene contro il Catanzaro, vedo il Cesena leggermente favorito, Monaldi è un arbitro, come sapete, tra i pochi che mi piacciono degli ultimi arrivati. Poi partita, la prima partita che seguiremo per il canale Bari contro Mantua, il Bari è diciannovesimo, il Mantua è quinto, questo francamente è un po' una sorpresa per quanto il cerchio magico, il Mantua è squadra attesa dai grandi giornali, dalla grande stampa a un campionato di vertice, quindi il totale fa 24 della sfida. Sarà pezzuto l'arbitro, un arbitro che prima che arrivasse Rocchi aveva anche presenze più numerose in Serie A, gara molto interessante. Mi aspetto un Bari che proceda nella sua crescita, il Mantua è una squadra che fa un possesso di palla esasperato, è proprio l'immagine del calcio moderno, bisogna fare tanto pressi di schiacciarlo là nell'angolo, metterlo in difficoltà. Il Bari contro Sampdoria ha avuto la possibilità di giocare gran parte della sfida con l'uomo in più, non ha trovato il gol, sarà una gara veramente da non perdere questa e la seguirò per il canale. Brescia-Frosinone, 27 il totale perché Brescia è undicesimo, Frosinone è sedicesimo, la fischia-Ghersini, uno dei talenti che si è perso un po' con la gestione dissipata della Cannes, partita intrigante con due squadre che nessuna delle due squadre è partita particolarmente bene, sarà una sfida sicuramente interessante. Cittadella-Catanzaro è volendo invece uno dei big match perché il totale fa 18, Cittadella è sesto, Catanzaro dodicesimo, partita che seguirò per il canale, Cittadella rognoso come sempre, squadra che fa dell'agonismo una delle sue doti principali, si è salvata con il discorso di avere il rischio di perdere la sfida contro il Pisa a tavolino per un errore tecnico procedurale e amministrativo che invece non gli è stato riconosciuto, il Catanzaro, l'ho visto bene con la Carrarese, con anche delle buone idee di Caserta che è intervenuto in quello che fino ad ora non aveva funzionato, certo questa è una prova del nove perché la trasferta è difficile contro una squadra competitiva e forte come Cittadella ci dirà davvero qualcosa in più sullo stato reale del Catanzaro e sulle ambizioni di questo campionato. Fissi a Feliciani, un arbitro che invece sta facendo carriera anche in Serie A e di questo sono soddisfatto. Big match della giornata, Cremonese-Spezia, Cremonese è settimo, lo Spezia è terzo, una sfida dal sapore di Serie A sicuramente, Cremonese ha riscattato un po' una partenza un po' difficile all'inizio del campionato, lo Spezia mi sta convincendo molto, arbitra Perenzoni, questa è un po' la sorpresa perché Perenzoni è un fischietto fino ad ora non avezzo a sfide di questa importanza, sono curioso di vedere come se la caverà ed è una partita, questa qui probabilmente è la più significativa della giornata. Juve Stabia a Palermo, Juve Stabia secondo, Palermo quindicesimo, il Totale fa 17, Fischia Sozza, un arbitro che non mi piace ma che invece è internazionale e in questo caso è una partita che conta per tutte e due le formazioni, il Palermo fa fatica in questo inizio di stagione, sicuramente poco brillante rispetto a quelle che erano le tante aspettative di una squadra attesa a un campionato di verdice, Juve Stabia invece è una neopromossa già solida, già organizzata, è una gara assolutamente dedicata per il Palermo. Queste sono le sfide di sabato, comprerò Bari-Mantova e Cittadella-Catanzaro. Veniamo a domenica, quattro le partite, c'è una Carrarese-Sassuolo, Totale 30, con la Carrarese 17esima, Sassuolo 13esima, l'arbitro è Mariani, uno dei migliori arbitri italiani, per cui la disinazione è importante per una sfida che ci deve dire un po' se il Sassuolo si riesce a riprendere da questo inizio di stagione un po' turbulento nella quale la squadra di Grosso sicuramente non sta facendo bene. La Carrarese l'ho vista contro il Catanzaro, devo dire che è la squadra per ora che mi sembra meno attrezzata per il torneo cadetto, però sicuramente la pausa può avere permesso all'allenatore di riuscire, al gruppo Carrarese un po', di riuscire a ritrovare qualche certezza maggiore che fino ad ora è mancata. Cosenza-Sandoria è la mia partita invece preferita di questa giornata. Il Cosenza è il ventesimo per la classifica, in realtà sarebbe molto più alto ma è stato penalizzato duramente e ingiustamente, gioca proprio contro la Sandoria, squadra che al contrario è stata trattata sempre un po' più coi guanti bianchi dalla federazione o comunque da chi è deputato a decidere. La gara è intrigante, la Sampa con il nuovo allenatore Sottil che è totalmente diverso rispetto a quello che c'era con Pirlo, per me sarà questa una sfida di battaglia, di combattimento, di veri asseribili, asseribili una volta, fischia Collo, un arbitro che lascia giocare molto e che sa anche però complicare molto le partite, questa per me è la partita della giornata. Reggiana su Tirol, Reggiana è quarta, su Tirol è decimo, su Tirol l'ho ancora visto e non vedo l'ora di riuscire a vedere una sfida, la Reggiana invece è una squadra che ho visto contro il Pisa e è andata sotto piuttosto severamente più dal punto di vista del gioco che non nel punteggio nella prima metà della gara, poi ha cercato invece nel finale di rimediare e di riuscire a portare a casa comunque il punto. Fischia Crezzini, il meno convincente degli arbitri neopromossi della Serie C, Salernitana-Pisa è l'altro big match, invece secondo il conto della Gianni Brera, Salernitana è nonno, Pisa è primo, totale fa 10, si gioca domenica, il Pisa come sempre purtroppo squadra sfortunatissima con gli infortuni, è successo anche con gli Eris, un Pisa che è la squadra che però più è cambiata rispetto all'anno scorso grazie al lavoro di Inzaghi e grazie al lavoro di avere ricreato un'atmosfera eccellente attorno alla squadra e tutti che remano nella stessa direzione, è una trasferta importante sul campo di una Salernitana che è data un po' quasi perspacciata già all'inizio di stessa stagione, invece sta reagendo molto bene. Partita bella anche questa, purtroppo la fischia Bonaccina, l'arbitro di Foggia Lecco, sarà per me sempre l'arbitro di Foggia Lecco, un fischietto che mi convince zero e vediamo come se la caverà in una gara, credo, infuocata e molto carica come Salernitana contro Pisa con peraltro anche i precedenti tra Inzaghi e la Salernitana. Vediamo quindi che appuntamenti di Serie B per cui saranno Bari e Mantua, Cittadella, Catanzaro, Cosenza, Samp, Salernitana, Pisa come già nel weekend scorso, vi anticipo che farò un po' fatica purtroppo a uscire con video subito dopo la fine delle gare, però nel corso della settimana poi arriverà tutto e grazie ragazzi comunque per seguirmi anche le volte in cui sono un po' in ritardo. Poi avremo altre tre partite che coprirò nel weekend o comunque le giorni successivi al weekend per la Serie A la sfida è Torino-Lecce, Torino terzo, Lecce tredicesimo, purtroppo arbitra Colombo, l'altro arbitro con Sozza che mi piace di meno in tutto il panorama italiano e Lecce fa sempre storicamente molta fatica sul campo del Toro negli ultimi anni sono sempre state partite molto complicate anche in casa peraltro per il Lecce contro il Torino che è partito molto bene quest'anno quindi è una gara anche questa molto molto intrigante con un Toro che deve confermare quanto di buono ha fatto adesso con l'ottimo lavoro di Mister Vanoli che noi che seguiamo il campionato di Serie B già conoscevamo piuttosto bene per la Serie C doppio appuntamento domenica si gioca Ternana contro Pineto Ternana dodicesimo Pineto settimo arbitra di Reda che non conosco francamente la Ternana per ora risultati che arrivano gioco che latita e abate Novello Aquilani profeta del cerchio magico la Ternana ha un potenziale straordinario secondo me in questa gara deve vincere a prescindere dalle prestazioni a prescindere da qualsiasi cosa sarà una sfida assolutamente bella così come Nova Ralecco dove voglio rivedere il mio allenatore preferito degli ultimi anni ovvero Gattuso che sulla panca del Como mi aveva fatto sognare qualche stagione fa con il 4-4-2 britannico ho visto che nelle prime gare non ha fatto più purtroppo il 4-4-2 però sono curioso di vedere la formazione piemontesa opposta all'Ecco che è ritornato in Serie C dopo la stagione di B arbitra Zoppi altro arbitro che francamente non ho mai visto arbitrare ed è questa una gara che si giocherà lunedì sera e quindi questa invece forse riuscirà a uscire con il commento un po' più puntuale comunque vedremo cercherò di fare del mio meglio ragazzi iscrivetevi al canale come sempre benvenuti ai nuovi iscritti fatemi sapere cosa ne pensate cosa vi aspettate da questa giornata che vi ha colpito in più di più in questo inizio di stagione le disegnazioni arbitrali se vi convincono o meno per questo turno io vi ringrazio attendo i vostri commenti e poi ci sentiamo poi naturalmente in settimana dopo le partite con l'analisi di tutto quello che accadrà grazie a tutti alla prossima cucù e ciao a tutti da LOX grazie a tutti